E ora parlo io, i numeri di Luca Barboni. Cosa è abbastanza semplice, ossia gli zeri. Ci sono un po' di zeri per ora nella classifica, visto che siamo solamente dopo quattro giornate. Non hanno mai vinto Viareggio, Nocerina, Gubbio, Barletta e Lecce, per cui in questa squadra nella colonina del Vittorio c'è lo zero. Ci sono due zeri nella colonina dei pareggi e si riferiscono a Paganese e a Lecce. Ci sono cinque zeri nella colonina delle sconfitte, Pontedera, Pisa, Catanzaro, Benevento e Prato. Uno solo zero per quanto riguarda le reti subite, proprio quello del Prato, ancora imbattuto dopo quattro giornate. Uno zero per quanto riguarda le reti fatte, quello del Barletta, che dopo quattro giornate non è riuscito ancora a realizzare un gol. Classifica dei marcatori che vede al comando Arma del Pisa e Arighini del Pontedera, quattro reti, poi Miccoli del Lecce e Grassi del Pontedera con tre e poi tanti altri giocatori con due. Una tripletta per quanto riguarda le realizzazioni multiple è quella di Arighini alla prima giornata di campionato, due doppiette, quelle di Danti e Arma, proprio di Nocerina e Pisa, che si sono verificate proprio nella partita dell'ultima giornata, proprio tra Pisa e Nocerina. Altre curiosità per quanto riguardano le suddivisioni nei quarti d'ora, come abbiamo detto anche già la scorsa settimana, il Pisa è un po' la lepre del campionato, è andata a segno ancora una volta nel primo quarto d'ora di gioco. Il Pisa, se le partite terminassero dopo 15 minuti, sarebbe primo al comando con 10 punti, seguito dal Catanzaro 8 e poi Ponte della 7 e poi giù giù tutte le altre squadre. Il Pisa è una delle squadre che guadagna dal primo al secondo tempo, avrebbe 8 punti se le partite terminassero dopo 45 minuti, ne guadagna 2 nel secondo tempo. Meglio del Pisa per quanto riguarda la differenza tra primo e secondo tempo, fa la Nocerina che avrebbe 0 punti, ne guadagna 3, l'avevamo già detto che la scorsa settimana ha fatto 3 pareggi tutti nel secondo tempo, non ci è riuscito domenica scorsa. Poi per quanto riguarda invece le squadre che perdono di più dal primo al secondo tempo, sono 2 che perdono 4 punti, rispettivamente Grosseto e Viareggio, il Grosseto avrebbe 9 punti se le partite terminassero dopo 45 minuti, il Viareggio ne avrebbe 7 e scendono rispettivamente a 5 e a 3 perché perdono 4 punti nella ripresa. Curioso proprio il Viareggio che ha realizzato 6 gol tutti nel primo tempo e nessuno nella ripresa, mentre per quanto riguarda le reti subite, 0 reti subite dal Catanzaro, attenzione domenica prossima il Pisa va in casa del Catanzaro, il Catanzaro ha subito 2 6 gol tutti e 2 nel secondo tempo e nessuno nel primo tempo. Veniamo adesso a vedere velocemente dati che riguardano i giocatori, in particolare l'età media. Il Pisa è una delle squadre che ha un'età media più alta, un pochino più alta l'età media di questa settimana rispetto a quella della settimana precedente, sale a 23,9 contro 23,8 della settimana scorsa. In questa giornata la squadra più giovane è stata la Paganese con 21,4. L'avversario di turno del Pisa, Catanzaro, ha un'età media che oscilla dai 24,7 della prima giornata ai 25,4 della seconda. Domenica scorsa ha giocato con un'età media di 25,2. I giocatori impiegati per quanto riguarda la squadra, anzi le squadre, la scorsa settimana era il Grosseto che aveva impiegato il maggior numero di giocatori, 22. Questa settimana è stata raggiunta dalla Nocerina che abbiamo visto dover schierare domenica scorsa a tanti giocatori che erano all'esordio. Lo stesso Danti che ha realizzato la doppietta all'esordio sale a 22 giocatori impiegati anche la Nocerina. Il Pisa è a 16 giocatori impiegati, era a 15 la squadra che ne aveva impiegati il minor numero insieme alla Serenità. La domenica scorsa c'è stato l'esordio di Caputo per cui sale a 16 giocatori impiegati fino ad ora. Adesso qualche curiosità per quanto riguarda i giocatori migliori o perlomeno quelli che hanno un rendimento migliore. Andiamo ad esaminare i dati che ha combinato la Gazzetta dello Sport. Seguiamo i dati della Gazzetta dello Sport. Il giocatore migliore che ha il rendimento più alto è Mancosu del Benevento che domenica ha riposato quindi su tre partite a una media del 7. Il giocatore che ha una media più alta con quattro partite giocate è Rashid Arma con una media punti a partita di 6,875. Poi troviamo Di Deo del Benevento, anche lui ovviamente con Mancosu solamente tre partite 6,83. Un altro giocatore con quattro partite, anzi due giocatori con quattro partite sono Caponi del Ponte d'Era 6,75 e Grassi 6,63. Una curiosità che volevo andare a vedere prima di chiudere quest'oggi è il 5-2 che Pisa ha rifilato domenica scorsa alla Nocerina. Precedentemente Pisa in casa aveva fatto cinque gol nel 2002-2003 contro il Lumezzane e nel 96-97 contro il Forlì. Era rispettivamente il C1 e il C2. Il 5-2, l'ultimo 5-2 in casa risale addirittura a un campionato di eccellenza 94-95 quando il Pisa si impose proprio con questo risultato sul Quarrata. Precedentemente, e qui si va molto indietro nel tempo, 5-1 Pisa Catania 81-82, 5-2 in Serie B 1967-68 Pisa Bari e sempre 1967-68 5-0 Pisa Messina. L'anno precedente 5-1 Pisa Catanzaro e questo è il grosso risultato che il Pisa ha ottenuto con il Catanzaro appunto sul terreno amico. Per quanto riguarda invece le gare disputate a Catanzaro, fino ad ora il Pisa ha giocato 10 volte a Catanzaro, 3 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte, 7 rettifatte e 13 subite. L'ultima vittoria del Pisa a Catanzaro risale al 27 marzo 83, eravamo in Serie A quando il Pisa ottenne alla guida Luis Vinicio la sua miglior prestazione in Serie A, ottenendo alla fine l'undicesimo posto. Il peggior risultato ottenuto a Catanzaro c'è stato nel 65-66, le squadre erano in Serie B quando il Pisa fu sconfitto per 5-1. Vediamo, adesso per chiudere, parlavamo prima dei giocatori migliori e per quanto riguarda i voti della Gazzetta dello Sport andiamo a suddividerli anche per età. Il giovane migliore fino ad ora, classe 1995, è Matteo Brunelli, il portiere del Prato che ha in quattro partite ottenuto una media di 6,63. Poi ci sono altri quattro giocatori del 95 che hanno ottenuto punteggi sulla Gazzetta dello Sport ma tutti hanno ottenuto punteggio in una sola partita. 1994, il giocatore col miglior punteggio è Antonio Palma della Nocerina, era a 7 la settimana scorsa e è sceso, chiaramente visto anche la squalifica di domenica scorsa. Comunque rimane il giocatore, classe 94, col miglior punteggio 6,50. Poi quattro presenze anche per Andrea Pastore del Pontedera, difensore 6,38. Tra questi due c'è anche Daniel Gemignani del Viareggio, centrocampista del Viareggio, 6,50 però che ha disputato solamente una partita. Passiamo adesso al 1993, il migliore con quattro presenze è Lorenzo Gonnelli del Pontedera, difensore del Pontedera, 6,38. Poi per quanto riguarda il 93 troviamo anche dei giocatori del Pisa, Gianluca San Pietro, quattro presenze, 6,25. E quattro presenze per Edoardo Gordaniga, Gevren Koznic e tre presenze per Massimo Lucarelli, tutti con la media del 6. La media del 6 anche per Alessandro Caputo, sto parlando ovviamente del Pisa, con una sola presenza. Potremmo proseguire anche con il 92, 91, 90 ma non abbiamo tempo a nostra disposizione. Andiamo invece per curiosità a vedere i vecchietti. Partendo dalla classe 1979, il risultato migliore per ora l'ha ottenuto Ciro Ginestra della Salernitana, tre presenze, 6,33. Poi Fabrizio Miccoli del Lecce, quattro presenze, 6,13. E poi altri giocatori del 1979 però con un'insufficienza. Per quanto riguarda invece un anno più vecchio, 1978, troviamo una sola presenza, però il migliore risultato del 1978 è Gianluca Comotto del Perugia, 6,50. Quattro presenze per Manolo Pestrin dell'Asco di 6,25. Poi insufficienza per Riccardo Allegretti e Francesco Montervina, questi della classe 1978. 1977, Igli Vannucchi del Viareggio, che domenica ha festeggiato la sua 500esima presenza in campionati professionistici. E ha una media in tre partite di 6,17. Poi troviamo nel 1976, il nostro Maurizio Pugliesi, quattro presenze, 6,13. I più vecchi di questo campionato, per ora, che hanno giocato, sono Massimo Gazzoli, portiere del Viareggio, e Morris Molinari, difensore della Salernitana. Quattro presenze per Gazzoli, 6,25. Tre presenze per Molinari, della Salernitana, 5,33. Parlavamo prima delle presenze della festa che è stata fatta a Igli Vannucchi domenica scorsa, con 500 presenze nei campionati professionistici. Ma non dimentichiamo che domenica scorsa ha festeggiato 300 presenze nei professionisti, anche Maurizio Pugliesi, portiere del Pisa, 300 presenze con 66 presenze in Serie B, 80 presenze in C1 e 154 in C2. E oggi siamo stati un po' lunghi, ci sentiamo la settimana prossima.